Buongiorno, siamo dopo la partita tra Spar Calcio e Alfa Sport, a finire con il risultato di 0-1. Allora, siamo con Mattia Musumeci, il migliore in campo di questa partita. Mattia, come è andata? Mi siete qualificati? Io no, rispondo. Bene, tre punti sono arrivati e ora vedete l'esigenza di questa parella? Sì, sì. Allora, Mr. Fiore, è andata benissimo. Allora, penso che scottetiva che avevamo è andata bene, è abbastanza bene. Come l'avete trovato, l'avete trovato a Spar Calcio? Una bella squadra, una bella società, è abbastanza solito come squadra e anche come club. Sì, abbiamo visto comunque tutte le società ben organizzate, ben disciplinate anche in campo. In campo specialmente. Che è importantissimo anche il free play scivolo. Va bene, tu chi sei? Giordano. Giordano. Giordano, poi facciamo le congratulazioni. Sì, sì. Sì, perché... Perché vieni anche tu, dai, ormai, dai. Lui, lui ha parato, allora, lui, lui, uno dell'altra squadra ha tirato, l'ha presa, è andato in campo. Fate le croniche in diretta. No, 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 ha fatto un tiro di classe, però io ho parato. Un tiro di classe? Però l'ha parata, però lo stavano in rete e ha preso qua. Quindi allora, questo risultato, tu sei anche qui, perché questo risultato è danno al fatto che tu hai parato questo gran tiro. Va bene, ti ringraziamo, intanto è arrivato qualcosa. Comunque, una pedata, grazie. Vabbè, ci vediamo dopo.